Cari amici, oggi nella nostra vetrina di auto occasioni le migliori proposte della concessionaria Queen Car, la regina del risparmio sulle quattro ruote. Ciao Fabrizio. Ciao a tutti, iniziamo questo 2020 in modo straordinario. Abbiamo 400 autovetture in pronta consegna, chilometro zero vetture nuove, tutte in pronta consegna con sconti fino al 51%. Ma la grande novità, la super rotamazione per il tuo veicolo diesel che non può più circolare, nessun problema. Fino a 7.000 euro di super risparmio. E sì, e poi con queste bellissime giornate di sole, perché rimanere a casa con l'auto che non può più circolare? Ci pensa Queen Car, perché la scegliete, la ritirate e la portate a casa? Sì, certamente vi ricordiamo, zero anticipo, prima rata dopo Pasqua, assicurazione, furti, incendio, casco, casco gomme, gomme da neve incluse, tutte in una piccola rata che sceglieremo insieme. Vi ricordiamo, vetture, GPL, ibride, in pronta consegna solo da Queen Car. E non voglio aggiungere altro, parleranno le super opportunità. Firmate Queen Car, state con noi. Queen Car, concessionaria ufficiale Sayong, presenta la nuova Tivoli 1.6, benzina, benzina GPL. Attenzione al prezzo, con 7.000 euro di super rotamazione per il tuo usato che vale zero, solo da Queen Car può essere vostra a partire da 13.900 euro. Benzina, benzina GPL, un crossover al prezzo di un utilitario a 13.900 euro. 35% di sconto, non parliamo di un crossover usato, ma di un'autovettura a chilometro zero. Benzina, benzina GPL, cambio automatico, due ruote motrici, 4x4, tutte autovetture. In pronta consegna, pensate, con oltre 7.000 euro di sconto. Ad esempio, la Tivoli, benzina GPL, full option, cerchi da 18, navigatore, retrocamera, a partire da 16.900 euro. Vi aspettiamo! Vi aspettiamo questo sabato a provare il nuovo Corando, due motorizzazioni, un 1.5 turbo benzina e un 1.6 turbo diesel da 136 cavalli. Attenzione al prezzo, solo per questo weekend il Corando è tuo da 19.900 euro. Solo 100 esemplari, parliamo della Tivoli, Green Sound, guardate che bellissima autovettura. Un crossover, cerchi da 18, tetto verde Lime, bellissima, a soli 17.900 euro, full option. Pensate, 7.000 euro di superrottamazione. 25 chilometri con litro di benzina, parliamo della nuova Mitsubishi Space Star, 1000 benzina, benzina GPL. Attenzione al prezzo, con la superrottamazione può essere vostra a partire da 7.900 euro. 5 anni garanzia, 5 anni furto incendio, con canoni a partire da 99 euro al mese. Mitsubishi SX, ultimi due pezzi, 1.6 benzina, benzina GPL, attenzione al prezzo, 14.950 euro. Non parliamo di un'autovettura usata, un'autovettura nuova, un crossover, 5 anni garanzia, la versione GPL addirittura con l'esenzione bollo, sua da 14.950 euro. Tutta la gamma Mitsubishi in pronta consegna, a chilometro zero, questa bellissima Eclipse Cross 1500, turbo benzina da 163 cavalli. Attenzione al prezzo, più di 7.000 euro di superrottamazione può essere vostra a partire da 17.950 euro. Ultimi due pezzi, 10.000 euro di superrottamazione. Parliamo dell'Eclipse 2002, turbo diesel, cambio automatico, 4x4, 10.000 euro di risparmi, 10.000 euro di motivi per comprare questa autovettura, a partire da 23.900 euro. Listino, 36.000 euro. Modello nuovo, parliamo del nuovo Mitsubishi L200 2002, turbo diesel, nuova motorizzazione in pronta consegna. Pensate, in tre giorni vi consegno l'L200, modello 2020, attenzione al prezzo, già a chilometro zero, a soli 18.950 euro, più IVA in pronta consegna. In tre giorni consegniamo l'L200. L'auto più venduta in Europa, l'Outlander Plug-in Hybrid, l'autovettura più green. 11.000 euro di risparmio, può essere vostra, a partire da 39.900 euro. Circolate sempre due motori elettrici e un motore benzina. Vi invitiamo a provare la nuova Mitsubishi SX, modello 2020, tua, a partire da 16.800 euro. Benzina, benzina e GPL, grandissima novità in pronta consegna. Passiamo in casa Maindra con la nuova Q100, 1.2 benzina, disponibile anche il GPL, a partire da 9.900 euro. Vi ricordiamo, furti, incendio, manutenzione, tutto incluso nella rata. Sempre in casa Maindra con la nuova XV500, 2.2 turbodiesel, 7 posti, 4x4, a partire da 19.900 euro. Vi ricordiamo, superrottamazione, prima rata dopo Pasqua, assicurazione e manutenzione inclusa nella rata. Non può mancare la Maindra pick-up, addirittura trilaterale, col cassone in pronta consegna, 19.900 euro. Venitela a vedere, superofferta. Superrisparmio col chilometro zero, anche in casa Suzuki, col Vitara, 1.000, benzina, sia il due rotte motrici che il 4x4. La cercate anche a GPL, risparmiamo oltre 7.000 euro con la superrottamazione, il chilometro zero a partire da 16.900 euro. chilometro zero, anche in casa Citroen, con la C3 Cross, 1.2 benzina, in pronta consegna, un risparmio di oltre 9.000 euro. Ve la portate via, 15.900 euro. Disponibile anche la C3, 1.2 benzina o benzina GPL, a partire da 10.900 euro. Tutta la gamma Nissan, a chilometro zero, esempio la Micra, 1.000 benzina, già versione full option, a partire da 10.900 euro. Disponibile anche i Cascai, sempre a chilometro zero, risparmio di oltre 10.000 euro, a partire da 21.900 euro. Superrisparmio anche in casa Toyota, coi chilometri zero, un esempio la Ego, 1.000 benzina, a partire da 9.900 euro. Prima rata, dopo Pasqua, assicurazione, manutenzione e gomme da neve incluse nella rata. Anche in casa Peugeot, chilometro zero, sul 3.800, benzina o turbodiesel, versione già full option, a un risparmio di oltre 10.000 euro. La portate via, 26.900 euro. Passiamo in casa Lanza, col chilometro zero aziendale. Un esempio, un aziendale, la versione Gold, a partire da 10.900 euro. Disponibile anche le versioni Silver, da 9.900 euro, macchine aziendali con pochissimi chilometri, sempre garantiti da Queen Car. Tantissime Fiat 500, chilometro zero aziendale, un esempio, un aziendale con 30.000 chilometri, a 8.900 euro. Passiamo alla Fiat Panda, 1.200 benzina, disponibile anche il GPL, a chilometro zero, a 7.900 euro. Passiamo al Fiat 500X, aziendale, anche qui pochissimi chilometri, del 2019, un risparmio di oltre 8.000 euro, ve la portate via, 15.900 euro. Alla Queen Car trovate tantissimi chilometri zero, anche in casa Hyundai, da lei 10, lei 20, il Tucson, esempio la Kona, chilometro zero, mille benzina, un risparmio di oltre 7.000 euro, con la rottamazione a 16.900 euro. Passiamo in casa Kia, anche qui, chilometro zero, vetture nuove con la super rottamazione, la Kia Stonic, 1.4 benzina, benzina GPL, a partire da 13.900 euro. Cercate una vettura ibrida, la Kia, la Niro, disponibile in pronta consegna, a 19.900 euro, disponibile anche a GPL, lo Sportage in pronta consegna. Non solo nuovo chilometro zero, ma anche vetture aziendali, non può mancare la Regina, utilizzata Miss Italia, Lativoli, 1.6 turbodiesel, full ops, ha un risparmio di oltre 10.000 euro, venitela a vedere, la portate via, 15.900 euro. Non ci sono più scuse, dovete passare da Queen Car se volete risparmiare. Sì, risparmiate il 51%, 400 autovetture a chilometro zero, tutte in pronta consegna a chilometro zero, con lo sconto fino al 51%, ma ricordiamo la super rottamazione. E se trovate un preventivo più basso del mio, che sicuramente è quasi impossibile, venite personalmente da me, che ve lo abbassiamo. E soprattutto, se avete problemi di liquidità, qui da Queen Car la risolve. Sì, certamente, vi ricordiamo, Queen Car vi dà la possibilità di dare zero anticipo, prima rata dopo Pasqua, piccole rate, tutto compreso nella vostra rata che sceglieremo insieme. Vi ricordiamo, GPL, ibrido, super rottamazione, fino a 7.000 euro, in pronta consegna solo da Queen Car. Tre sede disponibili per voi, Pianezza, via Susa 52, Carmagnola, via Poirino 6, Torino, Corso Grosseto 18. Grazie a tutti, alla prossima.